Sempre più vicina la data del 3 giugno per gli spostamenti delle persone da una regione all'altra. Il coronavirus sembra ormai sotto controllo. Giungono dati incoraggianti dal Ministero della Salute. L'indice di trasmissibilità in Molise non preoccupa. I contagi sono molto limitati. In ogni caso gli esperti continuano a raccomandare cautela, specialmente nel momento in cui dovesse aumentare per frequenza ed entità il movimento di persone da una regione all'altra in vista dell'estate e negli assembramenti dinanzi ai locali pubblici. In Molise poi si registrano segnali di ritorno alla normalità negli ospedali pubblici. Quindi a partire da mercoledì 3 giugno ci sono le condizioni sanitarie per riaprire gli spostamenti tra regioni senza grossi rischi per il ritorno del virus. La situazione appare fluida in molte realtà della penisola, ma rimane necessario continuare a rafforzare la prevenzione per fronteggiare possibili recrudescenze della pandemia. La situazione potrebbe essere ancora particolarmente caotica nel nord Italia, Lombardia soprattutto, secondo gli attuali indicatori, ma il Molise sembra lentamente uscire da un incubo al quale è caduto dagli inizi di marzo.